Le temperature bollenti sono ormai diventate la normalità nel nostro paese. In questa lunga estate iniziata già a maggio ci sono stati ben 9 picchi di caldo estremo, con temperature sopra i 35 gradi nelle città del nord e non solo. Numeri triplicati rispetto alla media di 2,6 giorni registrata dal 2008 al 2021. Finora sono state 18 le ondate di calore, 5 volte invece il termometro è stato spinto dal caldo africano sopra i 40. Maggio, giugno e luglio i mesi più caldi dal 1950, con temperature che hanno provocato incendi, siccità, ma anche il distacco di costoni di ghiaccio dalle montagne. Sulle Alpi Svizzere lo zero termico è arrivato a quota 5.184 metri, battendo un record che durava dal 1995. E le piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute, soprattutto sul nord Italia, con violente grandinate e raffiche di vento, hanno provocato gravi danni all'agricoltura, senza contribuire però a dare sollievo alle campagne devastate dalla siccità. Da gennaio, infatti, ci sono stati solo 20 giorni con precipitazioni sopra i 2 mm. Al nord le piogge sono diminuite del 40% rispetto alla media. Secondo la Coldiretti, solo nella pianura padana l'emergenza idrica minaccia il 30% della produzione agricola italiana. L'impatto del cambio climatico e degli eventi meteo estremi è devastante. I danni superano già i 6 miliardi di euro, il 10% della produzione nazionale.